Ha avuto una duplice sede, l'ultimo evento organizzato da Avis Fano in collaborazione con Fano Cuore Onlus e la Bella d'Italia Marche Romagna. Mercoledì 29 novembre infatti il centro trasfusionale e la sede Avis di Fano sono state completamente a disposizione delle donatrici che hanno fatto sentire la loro forza in una giornata di Open Day interamente dedicata a loro. Un'occasione dunque non solo per celebrare il gentil sesso ma anche per coinvolgere più da vicino tutte le associazioni che hanno come simbolo rappresentativo proprio il fiocco rosa della donna. Oggi siamo al terzo Donor Day del mese di novembre dedicato al mondo femminile. Il Donor Day questo mese si chiama Donazione Rosa appunto dedicato a tutte le donne che si stanno recando in questa giornata al centro trasfusionale. Ancora di più questo terzo Donor Day è importante perché coinvolge non soltanto le donatrici del centro trasfusionale di Fano ma anche tutte le associazioni che si adoperono per il mondo femminile. In questi giorni infatti si sta parlando delle giornate contro la violenza sulle donne e siamo ben felici anche noi come Avis di Fano di essere presenti con un nostro braccialetto. Il nostro braccialetto proprio cita sulla pelle e nell'anima in questo bellissimo gesto che le nostre donatrici vogliono dedicare all'altrui. Quindi bucando la propria pelle non è assolutamente una violenza ma un gesto totalmente gratuito e donazionale che va a arricchire nell'anima. Quindi sulla pelle e nell'anima è il nostro messaggio che vogliamo oggi dedicare ancora di più al mondo femminile. Sono tante le associazioni femminili presenti sia per quanto riguarda la tutela proprio della persona e delle donne e anche in modo più scherzoso e gogliartico che riguarda proprio la bellezza femminile. In questi momenti proprio sono appena arrivate le ragazze della Bella d'Italia. C'è stato un bellissimo ballo di tango argentino molto passionale che unisce l'uomo e la donna in questa bellissima simbiosi e siamo ben contenti di mandare questo messaggio del gesto donazionale. Inoltre al Donor Day c'è un Open Day presso la nostra sede. Proprio in questi momenti e anche in questo prossimo pomeriggio verranno misurate in modo gratuito glicemia, colesterolo e pressione. Grazie ai volontari e alla dottoressa del nostro centro trasfusionale. Quindi vi aspettiamo presso la nostra sede e forza donne venite a donare. Durante la giornata sono state scattate delle foto durante la donazione delle donatrici ed aspiranti donatrici che andranno poi a creare un puzzle della sagoma rappresentante la prossima locandina della donazione in rosa. Inoltre Avis ha anche pensato di mettere a disposizione dei medici per effettuare misurazioni specifiche fra cui pressione, glicemia e colesterolo. Un appuntamento importante dunque per la prevenzione della salute.